Il suolo è una miscela di frammenti di roccia e minerali, sabbia, argilla, acqua, aria e materiale organico chiamato humus. Tutto ha avuto inizio dalle rocce che formano la crosta terrestre. Il vento, la pioggia, i ghiacciai, le piante, nel corso del tempo hanno sottoposto la roccia madre ad un lungo processo di erosione. I fiumi, la pioggia e gli oceani erodono e trasformano continuamente la superficie terrestre. La sabbia, ad esempio, si è formata a causa del costante movimento delle onde che fa strofinare i ciottoli l'uno contro l'altro. Gradualmente essi si rompono in pezzi sempre più piccoli e formano la sabbia. Nei climi freddi l'acqua congela e mette sotto pressione le rocce. Quando fa più caldo, il ghiaccio si scongela e lascia profonde fratture nelle rocce. Mano a mano che gli agenti atmosferici e lo scorrimento delle acque erodono la roccia in piccoli pezzi, erba e piccole piante riescono a germogliare nelle fenditure. Le radici delle piante rompono ancora di più la roccia. L'humus, formato da foglie e piante morte, si accumula tra le rocce e rende il suolo adatto a piante più grandi e agli alberi, oltre ad animaletti come lombrichi e insetti. Man mano che più piante e animali vivono nel suolo, la quantità di humus aumenta e diventa sempre più fertile. Questo processo ha richiesto milioni di anni. Se scavassimo un buco nel suolo, potremmo vedere i differenti strati che lo compongono. La lettiera è lo strato più superficiale del suolo, composto da foglie secche, rametti ed escrementi di animali. L'humus è la fascia più fertile, poiché è formata da animali e vegetali decomposti. In questa fascia penetrano aria e acqua. Per questo motivo trovi qui le radici delle piante e gli animali che vivono sottoterra. Il sottosuolo è uno strato più duro, composto da sabbia, argilla e frammenti di roccia. La roccia madre è lo strato più profondo, composto da roccia dura e compatta. Grazie. Grazie.